Vas spirituale, vaso spirituale, Maria è rappresentata nel gesto di accogliere lo spirito, accogliendo la parola. Lo spirito parla al suo orecchio. Il manto azzurro della grazia copre Maria. Maria tiene in grembo il fuso con il filo della storia, a simboleggiare come lo spirito santo entra nella storia dell'uomo, intrecciandola con la storia della salvezza.